Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi il decreto legge maltempo con le misure d'emergenza per l'Emilia Romagna. Per quanto riguarda invece le Marche, la dichiarazione dello stato d'emergenza e i provvedimenti conseguenti sono ancora in istruttoria. Domani i tecnici della protezione civile nazionale arriveranno per la verifica dei danni insieme alla Regione Marche che indicherà i comuni colpiti. Il provvedimento potrebbe poi concretizzarsi nel successivo Consiglio dei Ministri di giovedì. Proprio sulla concessione dello stato d'emergenza anche alla provincia di Pesaro, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, già nel Consiglio Comunale di ieri, aveva ricevuto buone garanzie dal governo Meloni sull'onda di dati oggettivi di una conta di danni con 160 segnalazioni di privati per un importo di circa 10 milioni di euro. Il Comune è già dovuto intervenire con eventi di somma urgenza del valore di 200 mila euro. Ho anche cercato in quei giorni di tenere alta l'attenzione su Pesaro, anche l'attenzione mediatica perché è ovvio che rispetto al dramma emiliano-romagnolo noi rischiavamo di sparire. Negli ultimi giorni ovviamente siamo spariti perché noi siamo fuori dell'emergenza e la Romagna purtroppo ancora no, ma voi capite che noi abbiamo anche rischiato di avere i danni e di non apparire neanche come un territorio danneggiato, visto quello che è stato fatto. Noi abbiamo bisogno di risorse sia per i danni pubblici che per i danni privati. Da soli non ce la possiamo fare. Se voi pensate di moltiplicare quello che è successo a Pesaro nei comuni della provincia parliamo di centinaia di milioni di danni. E la conta dei danni allargata al territorio provinciale è ben dipinta dalla situazione della viabilità che il presidente della provincia Paolini e il Emanuele Greco hanno tracciato questa mattina. Noi abbiamo avuto circa, da una prima stima sulle strade provinciali circa più di 10 milioni di euro di danni. Però ancora le frane sono in lento movimento, ancora c'è qualche frana che scende, bisogna aspettare ancora qualche giorno che si acciughi per fare una stima reale. Ma comunque non saranno meno di 10 milioni di euro per renderle transitabili e praticabili. I danni sono tanti, le strade purtroppo ci sono tante frane, alcune continuano il movimento franoso e quindi questo ci preoccupa un po', però è tutto monitorato. Diciamo che noi ci siamo, siamo qui assolutamente pronti per qualsiasi cosa. Speriamo ovviamente che non ci sia più bisogno di nulla. Grazie.